Il cammino neocatecumenale fa un gran bene nella Chiesa e conferma che lo Spirito di Dio è vivo e operante anche oggi. È stato un incontro gioioso e intenso quello tra Papa Francesco e i membri del cammino neocatecumenale a corsi numerosi in Aula Paolo VI. Nel corso dell'udienza il Pontefice ha espresso gratitudine per quello che rappresenta il movimento e per la testimonianza che rende sulle strade del mondo, poggiando su tre dimensioni della Chiesa, la parola, la liturgia e la comunità. In particolare Papa Bergoglio ha ricordato la Missio ad Gentes resa in mezzo a non cristiani, dunque una pastorale missionaria, elemento essenziale per evitare che le acque ristagnino nella Chiesa. Il Pontefice ha chiesto dunque a tutti di annunciare l'amore di Dio e di risvegliare la fede in quei battezzati che si sono in qualche modo addormentati. Quanta solitudine, quanta sofferenza, quanta lontananza da Dio in tante periferie dell'Europa e dell'America e in tante città dell'Asia. Quanto bisogno ha l'uomo di oggi in ogni latitudine di sentire che Dio lo ama e che l'amore è possibile. Queste comunità cristiane, grazie a voi famiglie missionarie, hanno il compito essenziale di rendere visibile questo messaggio. E qual è il messaggio? Cristo è risorto, Cristo vive, Cristo è vivo fra noi. Grazie.